Settembre è tempo di ripartenze ma poi in realtà c'è anche chi non si è mai fermato come la comunità laudato sì di San Giovanni Rotondo che abbiamo già ospitato in questi studi anche recentemente perché la loro è stata un'estate davvero molto dinamica e con il mese di settembre questo dinamismo non si arresta anzi si amplifica perché è tempo del creato. Con noi in studio abbiamo Anna Paola Biceglia e Matteo Di Cosmo buongiorno ragazzi ben trovati. Grazie Tony buongiorno a voi. Siete qui perché per un motivo molto molto semplice altrettanto importante perché con il tempo del creato 2024 ecco ci sono tutta una serie di iniziative di cui adesso ci parlerete una che si è svolta durante la serata di ieri a Zapponeta di cui avevamo fatto riferimento qualche giorno fa e siete qua oggi non solo per raccontarci com'è andata ma anche perché come stiamo vedendo tutto schermo stasera lunedì settembre alle ore 20 e 30 presso il nostro sagrato del santuario Santa Maria delle Grazie Monsignor Padre Franco Moscone terrà un altro momento di preghiera di riflessione un'adorazione eucaristica vera e propria ecco che vi consigliamo di partecipare. Allora ragazzi come è andata ieri e che cosa ci aspetta stasera? Sì hai ragione è stata davvero un'estate calda ieri sera l'estate ancora calda di temperature ma soprattutto calda per il clima per quell'evento che abbiamo vissuto. Vedo una piazza cremita di gente a Zappone. Esatto nonostante appunto potevano fare altro per il caldo abbiamo vissuto questo concerto una voce per il creato che è arrivato ormai alla terza edizione quest'anno e abbiamo appunto avuto dei ragazzi di San Giovanni ma anche di mattinata che vedete proprio in questo momento della casa dell'arte di mattinata dei ragazzi del lago di Monte Colombo e che hanno eseguito si sono presentati con dei brani che abbiamo proprio proposto per il tema del tempo del creato di quest'anno che vi ricordiamo è stato e perché ci siamo ancora sperare e agire con la creazione e quindi tutti i brani che in qualche modo sono stati mezzi di veicolo per questo messaggio. Molto bene. Matteo tu ieri sei salito sul palco come la nostra cara Anna Paola ti sei anche esibito vero? Esattamente sì ho fatto un duetto con mia sorella Angelica di Cosmo e è stato un momento molto emozionante anche la canzone a Million Dreams un milione di sogni e proprio con questa canzone diciamo si centra proprio sulla speranza su questo tempo che è di speranza è tempo di ricominciare è tempo di rinnovare questa creazione che Dio ha proposto ad ognuno di noi. grazie Matteo e complimenti sei giovanissimo ma vedo che sei già come dire pronto a farti da cassa di risonanza per questi temi così belli e importanti. Anna Paola invece il momento di preghiera di stasera di cui abbiamo anticipato come si svolgerà nel dettaglio? sì sarà un momento di preghiera una vera e propria un'adorazione eucaristica all'aperto ci tenevamo a trovare un modo per vivere all'aperto questo momento e sarà presieduta dal nostro vescovo e ci saranno momenti di riflessione sul tema della speranza e dell'azione e anche ci saranno dei gesti che compiremo che faremo all'interno di questo momento la presentazione di alcuni simboli che ci riporteranno ancora di più a immergerci in queste tematiche che il Papa ci ha proposto sia il concerto di ieri sera sia il momento di questa sera per noi sono stati veramente nella costruzione degli stessi un'occasione per sperare e per agire ci siamo resi conto che non è stato il semplice creare presentare un concerto presentare un'adorazione ma il lavorare insieme fare rete con altre associazioni con altre realtà anche per noi essere qui stamattina con voi questo per noi è un modo di agire a favore della creazione che non è solo l'ambiente la dato sì non si tratta di ambientalismo ma c'è anche l'uomo all'interno di questa creazione e già è un tutt'uno meraviglioso e spero che la collaborazione con la comunità laudato sì in maniera particolare quella di San Giovanni Rotondo possa proseguire anche quest'anno all'interno del programma di approfondimento la regola della sostenibilità ci metteremo a lavorare in questi giorni per rafforzare questa sinergia ecco in chiusura ti chiederei di raccontarci brevemente che cosa sono le comunità laudato sì e come si può interagire con la vostra meravigliosa realtà di San Giovanni Rotondo perché siete davvero un gruppo fantastico sì le comunità laudato sì nascono davvero dopo l'invito disperato quasi del papa nel 2015 a seguito della sua enciclica laudato sì per prendere un po in mano le eredini della situazione cercare di fare di creare tutto un movimento attivo ma pratico concreto ognuno nel proprio territorio senza arrivare ai livelli alti della politica del governo ma ognuno radicato nella propria realtà per creare movimenti di prossimità al prossimo che è fragile ma anche all'ambiente che è fragile quindi attraverso nel nostro piccolo ad esempio attività di volontariato noi siamo stati alla stazione di foggia a fare una serie di iniziative con i senza tetto campagne di pulizia nei quartieri più dimenticati e tutte tutte le comunità laudato sì si trovano in maniera molto semplice davvero sui social su instagram sulle pagine facebook sul sito che ora stiamo vedendo il sito ufficiale del tempo del creato che ci rimanda poi al sito del movimento laudato sì che raccoglie tutte le iniziative di tutte le comunità sparse in tutto il mondo è una realtà presente ovunque non siamo quindi davvero è un movimento dell'umanità non è un movimento della chiesa ma è un movimento che coinvolge tutti i popoli della terra dall'amazzonia all'africa all'europa ovunque il papa davvero è riuscito a raggiungere tutti questa cosa ci lascia ogni volta senza parole gente di altre fedi di altri credi siamo è ovunque ed è quindi è importante sì ritrovarsi su questi temi così importanti in maniera ecumenica anche no quindi trovare la strada da percorrere insieme per tutelare la creazione nella quale dobbiamo essere protagonisti attivi come dicevi prima tu per tutelare il creato e che significa tutelare la nostra stessa vita la nostra stessa esistenza dunque io in conclusione al ritornerei sull'appuntamento di stasera sul sagrato della chiesa santa maria delle grazie dove alle 20 e 30 ci sarà l'adorazione eucaristica preseduta da monsignor franco moscone sarà anche un'occasione terminata la preghiera anche ecco per conoscervi meglio scambiare due chiacchiere per cui cerchiamo ecco chi per quanti possono di partecipare a questo appuntamento aspettiamo davvero numerosi 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 sì 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 avremo tempo come mi auguro e come anticipavo prima per ritrovarci per continuare a camminare insieme su questo percorso Matteo è stato un piacere conoscerti grazie anche a lei grazie a te e complimenti ecco buon proseguimento di cammino e ad Anna Paola anche un sentimento di gratitudine sperando ecco di ritrovarvi davvero prestissimo per questa nuova stagione anche della regola della sostenibilità va bene ci saremo grazie a voi davvero grazie